Ciao da Svideo, continuiamo Resident Evil 7 Dobbiamo andare nella rimessa delle barche che dobbiamo trovare Zoe, Mia, eccetera la rimessa delle barche però dov'è la rimessa delle barche? allora, vediamo un po' qua ci vuole la manovella ok, ce l'abbiamo la manovella, vero? sì ok, ora c'è da muoverla ok arrivo mia arrivo mia, eh sì finalmente forse riusciamo a riabbracciare Mia però c'è il caso che ci sia ancora da lottare la manovella è anche qua? aiuto, chi c'è? muori è morto? si muove ancora non, ma è morto, è morto ce n'è più di uno sono grossi anche e morite 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 non voglio morire oh oh, è scarico? no caricati ok sì, 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 dai sono morti ma quanti ce n'è? ma arrivano infiniti, no? beh beh, ce n'è un altro ancora scarico eh, c'ho il lanciafiamme oh, l'ho preso male l'ho preso male spara e dagli mettilo dai, rostiscilo non muore non muori ok ok, rostito ragazzi andiamo di qua cocane andiamo, andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti fanno prendere uno spaghetto ma guarda te basta quanti ce n'è? dai oh, oh oh aspetta, eh cosa c'ho? c'ho più niente ma noi lo trapassiamo velocemente beh io passo così lui è lento e noi andiamo di là ragazzi a volte bisogna giocare un po' anche così cartice per fucile aiuta se mi danno tante di queste munizioni qua chissà cosa c'è lì più avanti si ah, c'è mia ragazzi è lei Zoe 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 io ok quindi hai entrambi gli ingredienti si, si, ce li ho proprio qui ma fatti caccia dobbiamo fare molto in fretta mio padre e Lucas non sono lontani e qui papà sta arrivando bene ce n'è abbastanza per due ok ah è qua mia e ho ottenuto il siero cosa si fa qui fuori c'è una barca andremo alla palude ma senza il siero saremo spazzati ah melodia grazie ehi uno di questi è mio ah oh 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 no che è sta roba oh 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 ma che è questo che qua ma va tu cane che è sta roba aiuto ma che è 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 ma eh aspetta eh c'ho il fucile ora con blocchi contro di me con la mia famiglia come la mia famiglia perché io non mi fai Dai, fatti vedere dove è rimasto quell'altro occhio Non lo trovo È lì, è lì Dai, dai, cavolo Spara No, non ne ho più, non ne ho più, non ne ho più Ah sì, sì che ne ho ancora È pre... Cavolo Io l'ho preso, io l'ho preso, io l'ho preso Ce n'è degli altri? No, eh? È morto? Amore, ti prendo, loro ti prendo No, loro non sono finiti Che è successo? Che succede? Che succede? È lì l'occhio, è lì, è lì, è lì Muore Cavolo Dimmi che è morto Sì Ora, le ho viste proprio tutte È finita la musica, quindi è morto davvero Non è come nei film horror che adesso si rialza No Adesso non passo più No, adesso rimango incastrato qua, eh Rimango baggato qua dentro, eh No No, dai Dove devo salire? Ah, ma quello che li vedi, li vedi, io lo sapevo che non era ancora morto Quindi Quindi Usa il siero su di lui Ah, usa il siero su di lui Eh, fai, niente è siero Bellezza, bellezza Come succede? Quindi? Tutto bene? Dove sei? Sì Ah, sì qua Mi accia aspetta Va bene È stata tosta Ciao L'ho dovuto usare Eh, ne resta solo uno Ne resta solo uno Ne è rimasto uno Eh Ne è rimasto solo uno davvero Eh sì E ora che ci inventiamo Eh Boh Cura Zoe Cura mia Cura mia Va bene E io che speravo di fuggire Eh, va bene Ma Zoe Andate Vi ho detto di andarvene Eh, bisogna scegliere Non si può tutte e due Troveremo qualcuno che ti aiuterà È questo Non posso cambiare il mio destino Io ti salverò Eh Stai tranquillo Non rimarrà nessuno da salvare Ah Ok Dunque Dove stiamo andando qua? Sei coinvolta in qualche modo, Piero? Ascolta Devo sapere la verità Vedo Te lo giuro Io non mi ricordo Eh Tu prova È la nave Come cazzo è arrivata? Boh Ma che diavolo Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che succede? Mammina Mammina Di qua Dai Dai Perché? Ethan Ma stiamo comandando lei adesso? Ma dai Oh È lui Ethan E va Ma dai Ma dai Che succede? Ma di qua si può andare Che cosa è stato? Eh Boh Sono morti Sono tutti morti Ah Stai parlando Allai che li ha uccisi Oh Boh Verda Che cazzo sta succedendo? Ci servono armi Ne abbiamo su questa nave Io non lo so Ah Possiamo ancora fuggire da questa nave Ah di qua? Allora dai Se dicono così Allora diciamo Si può andare di qui Salire su di qua Tranquilla ragazzini Stai tranquilla Ora stai ricordando? Eh Sì Cosa? Che cosa sei? Hehehehe Mmm Quando ridono così Ma cosa ridi? Hai detto che saremmo stati una famiglia Eh Di cosa stai guardando? Me l'avevi Detto Aspetta Una stufa di aspettare Oh oh Uno S S Scegli il giro da usare C'è solo questo Qua cosa c'è? Fusibile generico Uno F Qua Qua ci vuole fusibile Ok 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 Così possiamo entrare Vabbè Saliamo su Guarda bene Cosa? Aiuto Ti devi ricordare Così poi saremo Una famiglia Eh vabbè Cosa mi devo ricordare? Vecchio video cassetta Infilala Basta che non sia la cassetta di The Ring Test soggetto E001 Top secret Ok Mia Winters Alan Stai peggiorando Deve avermi Infettato nell'attacco Ormai è troppo tardi Ma in fondo è colpa mia Se si è liberata Sì È colpa tua Ma non ti lascerò morire così Perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di infredd Non possono averlo realizzato Prendi Contiene Un piore di tessuto Trovalo Sistema tutto Dai su Vivi Dove sei? Ah qua c'è un'apertura Se c'è lì Sta vomitando Che è quella roba lì? Devo resettarla Ah Com'è la situazione? Sta vomitando Molto più della sua massa corporea Grazioso Se continua così Ne vedremo molti altri Dei suoi brutti amichetti Ok Dobbiamo trovarla Immediatamente La situazione si sta scappando di mano Sono d'accordo 21 Ho visto qualcuno Ho preso l'ascensore Prendo anche io allora Ah sì Oh L'uva Allì Ok Ah no Dobbiamo andare giù Perché siamo già a quel piano lì Come non funziona? Ah Aspetta Sì Non stavo premendo sul bottone giusto Evidentemente Diamo un po' Agente corrosivo Ok Ok Agente corrosivo Agente corrosivo Andiamo un po' Perfetto va' Sei arrabbiata con me Mamma No Evie Non sono arrabbiata Aspetta Come mi hai chiamato? Non voglio più vivere al laboratorio Voglio una casa E tu sarai la mia mammina Va bene Evie Sarò la tua mammina Ma adesso Vieni subito con me Ok? Dove sei Evie? Vieni 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 Vi aspetta L'hai trovata Sì Ma hai fuggito Sta generando altre creature Alan Sono ovunque Proprio come sospettavo Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Emery Ah, si è andato al piano 3 adesso C'è anche un piano 4, dopo mi farà fare tutti i piani Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato Eveline è di sopra Alan, Alan, dove diavolo sei? Ok 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 Faccia bene. Come sei arrivata qui? Dove hai lì? È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di Kimi, senza di Gordani. Tanto io sono il tuo cuore. Non dire così. Esci fino a te. Quella morciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Evie, no, Evie, Evie. Alan, ascolta. Non volevo chiamarti. Lei sta cercando di controllarti. Devi riuscire a resistere, capito? Giura! Magali! Basta! 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 Adesso smaltila! No! Basta, eh! No! No, no! No! dai alzati fatti forza adesso si è vero ti ho mentito non avrei dovuto ma quello che posso dirti è che se troverai questo stanne lontano dimentica di avermi conosciuta e ciao sei felice aiuto adesso staremo insieme per sempre oh che succede adesso no quindi che succede si sì possiamo tornare a essere una famiglia no non possiamo non lo siamo mai stati non saremo mai una famiglia beh allora non mi servi più a niente ahahahahahahahahah ma non ho parole c'è da registrare ok allora registriamo qua e poi continueremo un'altra volta ciao das video aiuto cosa è successo in questo episodio aiuto ciao 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 ciao